In America viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. E 250 violenze carnale al giorno. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Un'aggressione ogni 25 secondi. Ma perché ammucchi la roba così? Che pizza che sei! E lasciami, sei una frana! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! The 22-year-old victim was mutilated with a sharp instrument and seemed to be just as unlikely a victim as the other 15. Not much else is known other than that the night slasher preys upon anyone. His victims have included businessmen, Asian immigrants, the elderly, and in one case, a sexually assaulted child. A serial killer has thrown the city into a growing panic, and up until now, no one has had a clue to his identity. In America, viene commesso un furto ogni 11 secondi. Un'aggressione ogni 65 secondi. Un reato di sangue ogni 25 secondi. Un omicidio ogni 24 minuti. e 250 violenze carnale al giorno. Un omicidio ogni 55 centi. Un omicidio ogni 60 Ryan. Un omicidio ogni 57 Tutaj. Un omicidio ogni 70i. Un omicidioąEty promuonte. Grazie.